Lo Sputnik V, il vaccino anticovid che da mesi è iniettato alla popolazione russa, è prodotto in uno stabilimento di San Pietroburgo attraverso macchinari della Marchesini Group, multinazionale bolognese di cui Valentina Marchesini è responsabile delle risorse umane. Siamo orgogliosi di sapere che il vaccino è prodotto da un nostro impianto, dice Marchesini. Si tratta di una linea di confezionamento che produce 200 flaconi al minuto e occupa più di 2000 metri quadrati. Un insieme di macchine con diverse funzioni, dal lavaggio dei flaconi fino alla chiusura con la ghiera, passando per la sterilizzazione e il riempiemento con il siero. In Italia, invece, la multinazionale della Packaging Valley Emiliana ha fornito le sue macchine a un'azienda di Latina che si sta organizzando per la produzione degli anticorpi monoclonali, possibile cura per il Covid-19 nella prima fase della malattia. Prosegue intanto la somministrazione del vaccino anticovid Pfizer nel nostro paese. Proprio ieri l'ordine dei medici, chirurghi e degli odontoiatri di Bologna ha dichiarato Non sarebbe deontologicamente corretto che da parte di qualche medico provenissero voci contrarie alla vaccinazione. Si sta quindi valutando la loro idoneità a lavorare in un ospedale.